La Civiltà Cattolica presenta Abitare nella possibilità Padre Nostro di Mariano Jacobellis Padre Nostro è il terzo lungometraggio di Claudio Noce che vede coprotagonista un sempre bravissimo Pianfrancesco Favino vincitore della Coppa Volpi come miglior interprete maschile all'ultimo Festival del Cinema di Venezia Il regista racconta se stesso da bambino figlio del vicequestore di Roma Alfonso Noce vittima di un attentato da parte dell'organizzazione terrorista NAP in cui persero la vita un poliziotto e un criminale Gli anni di piombo, tuttavia, restano sullo sfondo della pellicola in un ritaglio di giornale un frammento di telegiornale una rivendicazione ascoltata al telefono Il punto di vista è quello degli occhi dolci di Valerio interpretato dal bravo Mattia Garaci che osservano avidi la presenza mai certa del genitore La sua pancia impara a respirare all'unisono con la pancia del papà e la sua assenza è risolta dal rapporto con Christian amico, fratello, sostituto, forse rivale e nemico l'altro da sé di cui immaginare un dolore altrettanto forte contrario ma uguale Padre Nostro è un film ambivalente sulla solitudine e la tragedia che hanno vissuto intere famiglie sulla paura di vedere ammazzato un proprio familiare il proprio padre, madre, figlio, figlia, fratello, sorella Le vittime sono bambini anche quelle dei terroristi i figli pagano la colpa dei crimini efferati compiuti dai genitori Fatalmente, troppo spesso in Padre Nostro le immagini sono di troppo quasi il regista non avesse consapevolezza della misura con cui una vicenda personale può diventare universale Nel film ci sono i segni di un amore privato e di un dolore vero ma il racconto si tinge di troppe forme, troppe soluzioni per essere anch'esso assoluto